ah questo forse ma non è che si bruci tutto ma vi ricordo di iscrivervi al mio canale attivare la campanellina e lasciate un bel like se il video vi è piaciuto e ben a tutti ragazzi benvenuti bentornati al mio canale su youtube oggi come potete vedere anche dal titolo siamo ritornati possiamo dire anche di si sui giochi vari non è una vera propria serie questo video metterò sui giochi vari è un gioco abbastanza breve di quello che ho capito è un gioco magari non vi spoilerò niente vi faccio godere direttamente il video vi ricordo solo che sono in live tutti i giorni lunedì a venerdì dalle 16 e 18 e dalle 22 a mezzanotte circa trovate tutti lì sotto descrizione anche quello di instagram che lì vi avviserò se faccio live sì o no tutto diciamo se volete perdermi niente segretemi su instagram e buona visione ok quindi cos'è ma perché così ah sono le scale eh ora cosa devo fare oh ciao e ora ah no devo prendere la bottiglia ok tu resta seduto lì non muoverti potevo farlo di sera magari ci stava al meglio ma vabbè eeeh questo devo prendere chiusi ok non si è mosso bevi ok contento cosa devo fare take baby cioè devo prendergli questo run ok devo portarlo al fasciatoio e dov'è il fasciatoio no non è in cucina almeno sarà qua ok devo prendere questo e dov'è andato no mettilo qua ma dov'è andato ma cosa ci fai qua no devo metterlo qua muoverti ok cambialo a posto lo portiamo nel letto ove dai spolz però ho uno sguardo proprio da malvagio dov'è il letto questa è bloccata qua no ma c'è ok non facciamo domande ok no ok questo allora abbiamo la storia di un gatto ok finito bene si è addormentato piano non facciamo rumore ok ora possiamo andare a guardarci un po' di tv ok si sta addormentando ma cosa vuole dove ma ha aperto la porta perché ma dov'è è qua ma cosa ma cosa e cosa faccio con questa chiave la metto qua no prendi la chiave mi servirà per una cosa no qua eh è di sopra ma cos'è ma cos'è questa cosa ma dove sono io vado avanti non so ma io devo andare per di qua forse è un gatto ciao bel gattino non è che cado oh eh ma dov'è ok meglio non entrare qua sarà di sotto ma cosa fai qua è triste facciamolo felice qua cos'è mettiamolo nel forno ecco ora è felice bene ecco a posto ora è diventato felice e ora dormi sei andato che ne era giusto ora puoi dormire giusto vuoi questo qua 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 bello eh ok dormi ora e torniamo a guardare la tv perché si è sentito qualche rumore guardiamoci la tv torniamo a prendere la bottiglia che è in frigo si genera automaticamente ma chi l'ha presa? devo cercare la bottiglia che è sparita ma come? no qua non c'è boh no qua no no non rompere uova a caso così qua non c'è niente ah invece si vedete che c'è ma dai bevi torniamo a cambiarlo ok andiamo a prendere il pannolino qua ma ma come? ma dai dove va? no cosa sta facendo? l'ho trovato no ma dove sta andando? ti ho trovato? dai fermati ma come può essere? ah ma come può aprire anche le porte? oh ecco ecco sì ma cosa si fa questo per vedere c'è delle mutande che scappano ecco lo mettiamo come può essere? no fatti un giro nella giostra allora vai pronto? no ho trovato un piatto no vabbè almeno si è un po' divertito ma sarebbe qua? ma sarebbe qua? sempre qua devo metterlo ok ma devo tornare a leggere il libro ah un altro libro qua il coniglio dai torniamo a leggere dai ma cosa? ma come può essere? vuoi il gatto? vero che vuoi il gatto? dai non lo vuoi più il gatto vuoi il coniglio? ah ok e continuiamo a leggere ok sta dormendo andiamo ora a guardarci un po' di tv oh questa fantastica tv cosa vuoi? chiudi la porta c'è c'è qua oh oh ma guardiamoci un po' di tv dai ce l'abbiamo fatta ora proviamo con la terza notte vediamo come va ok continuiamo a guardare la tv invece no perché piange cosa vuoi? devo preparare un toast col formaggio dove trovo il formaggio o le uova o le uova ma non me ne è uguale? qua forse ah formaggio mettiamo il formaggio ah questo forse ma non è che si bucci tutto ma è veramente demoniato ma è veramente demoniato questo bambino? e ora come preparo il toast per questo bambino mi ha fatto esplodere il toast a pane non so così no mi sono intrappolato dentro ma dove? è un piccolo cieco è un piccolo cieco questo è un piccolo cieco questo è tutto questo si ma c'è mettere molta ansia qua cambiamo il bambino oddio cosa sta succedendo? ma è indemoniato questo no aiuto 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 mi stanno attaccando ma dai basta dai devo andare a prendere strumento per no no per di qua andiamo prima che sia troppo tardi ma dai ma non è possibile questo questo è un'emergenza dov'è andato? dai fai sparire tutto questo portiamola a dormire no ma è il ciuccio ma che vediaco dai vuoi che ti lega la storia? però stai calmo dai fai il bravo fai il bravo ecco vuoi che ti lega la storia? ok leggiamola ok leggiamola non posso leggertela eh cosa vuoi? la pecova? o la pecova? contento? ora dobbiamo leggerti la storia leggiamo la storia basta che fai il bravo ma non ancora dai fai il bravo devi dormire no cosa sta succedendo ora? no non ancora dai buonanotte cosa? cosa? c'è praticamente è finito così praticamente il bambino sale sul trono e ha il comando di tutto? ma come? non mi aspettavo questo finale veramente è finito così